Musica Ciao Pierpaolo, ciao, sono Arianna di Giosnotte Sono Arianna, io piaceremo Siamo qua per farti una bella intervista, questo è il nostro primo caso di successo e vogliamo un po' sapere le tue emozioni con Avila Bene, pronti, pronti Siamo, andiamo ad avere un caffè Sei il nostro ambassatore, il primo caso di successo No, vanno a fare molte gioie l'intervista, vanno a fare molte gioie Siamo molto contenta con i ragazzi più giovani che ha il primo caso di successo Io sono 21 anni e ho fatto questo Mas 21 Così anche io L'ho fatto durante le lezioni Si sono messo là e ho mandato i corsi portano avanti Perfetto Questa è facile come bussare a quel giro intervista, vabbè Perfetto 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 Mi hanno invitato a alcuni uniti loro che svolgono ogni anno Perfetto Si, quindi è una cosa un po' a scherzare Perfetto 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 Cosa farebbe? Cosa farebbe? Cosa farebbe? Metterei più opportunità, comunque quella mia, se l'avete messo qua, non ho dato bene anche una piccola luce, in fondo alcuni dicono, beh, arriviamo in fondo, se invece, come ora, non c'è veramente un'opportunità, non c'è veramente un qualcosa che ti spinge avanti un po' dura a, come dire, alzare e fare qualcosa di utile. Grazie a tutti.